e non so se rendo l'idea io e lo stavo cercando abbiamo zeus alpinista io vorrei sapere qual è la sua idea io capisco che ci siano le lucertole che vanno sui muri ma le tartarughe non le avevo ancora viste vorrei veramente capire dove crede di andare le sfide impossibili sono queste non so giudicate voi non ho parole cioè non è un serpente non è neanche una lucertola non è neanche un gecko è una tartaruga non ho veramente più parole c'è proprio non le ho